Vado? Sì. Ciao, questo è l'angolino domotico, nel senso che è tutto computerizzato. Ho comprato Alexa, che è un agenzio che si collega a internet e con la voce fa tutto. Allora, Alexa, spegni la tv di sala. Alexa, spegni la tv di sala. Alexa, spegni luce 1. Alexa, spegni luce 2. Alexa, accendi luce 1. Alexa, accendi luce 2. Alexa, luce 1. Rossa. Alexa, luce 2. Verde. Alexa, spegni la tv di sala. Alexa, spegni la tv di sala. Alexa, spegni la tv di sala. Alexa, accendi la tv di sala. No, buongiorno. Alexa, accendi la tv di sala. Alexa accendi TV Sala Alexa metti canale 9 TV Sala Alexa metti canale 1 TV Sala Alexa ok perfetto ok